Grazie a tutti. E che l'ha detto? Siamo ballati. Ma lui che l'ha disposto? E che sto a fare io? Ma lui che l'ha detto che sto a fare? Che l'ha detto lui? Se lei non sa ballare, non sa ballare che ci si stanno. Ammazziamoci insieme. Non si sa ballare su questo. Facciamo un dato di quadro. Non si sa fai solo il sarto di capri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, le hanno offerta. Le hanno offerta? Galanteria. Galanteria non manca mai. Ci vuole. A lei secco. Buon brindisi. Certamente. Che gli hanno da? No, non va via. Allora, corsa, vediamo. Brava Nicca. Brava di Preta. Per me, eh? L'inconsapevolezza, ho capito. Ma che bicchiere? Vai per il secco. Facciamo... A metà. A metà. O delle donne. 77. E il numero 77. Ma sono quelli delle tavole. Mi raccomando, anche questo. Questo lo registrava tutta. Tutti dalla nostra parte stasera. Tutti da questa parte. Ma che è vero... Anche stasera, signora. Lei è proprio... Non vuol perdere la famiglia. Questa è una bella finza. Comunque.